Un gruppo di amici. Abbiamo 18 anni, siamo carichi e se non lo siamo adesso non saremo mai più. Un sogno da realizzare. Il progetto è quello di fare una radio. Trovarci. Abbiamo trovato una sede. Partendo da zero. Adesso devi fare una radio, sai che non ci fa? No. Uno, uno, te sarà tutto io. Segui i ragazzi di Cavezzo mentre si mettono in gioco per ricostruirsi un futuro migliore dopo il terremoto dell'Emilia. Il nostro obiettivo è quello di smuovere una generazione. Radio Emilia 5.9. La mia vita dopo il terremoto. Da lunedì 14 gennaio, dal lunedì al venerdì alle 16. Su MTV, canale 8 del digitale terrestre.